Ciao a tutti, certamente per chi ti fa Juventus non è mai facile, in questi anni in modo particolare non ci sono mai belle notizie, o almeno quando c'è una bella notizia ce ne sono di solito due o tre che fanno schifo e speriamo di fermarci a due in questo momento perché non vorrei che arrivasse pure la terza. Cosa è successo? Beh, la bella notizia penso che la sappiate tutti, la vittoria contro Sassuolo che non era assolutamente scontata, una vittoria netta, 3-0, con un gol di Di Maria particolarmente bello, una schiacciata in un giro al volo che non era assolutamente scontato, ha fatto un gol incredibile, tra l'altro un consiglio che era posizionato benissimo in porta e Di Maria ha trovato l'unico modo per metterlo in difficoltà e infatti ha fatto pure gol. Poi fa un assist bellissimo, si vede che è in forma, che corre, che dà gli assist giusti, che quando fa la percussione diventa veramente letale, quindi sei contento di aver acquistato un giocatore di questo livello. La gioia però dura molto poco perché al 63-64 della partita esce. Vabbè che uno dice, tante volte i giocatori escono, poi stanno fuori due o tre giorni, poi rientrano e ci può stare un affaticamento oppure una precauzione, se è mai la prima partita, i tempi sono molto veloci, molto rapidi, magari non vuole rischiare di saltare la prossima partita. No, 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 non è questo. Eh, piaceva, sarebbe stato bello. No, e oggi è uscito l'esito dell'esame strumentale, è una lesione del muscolo aduttore, lieve se vogliamo, certo, però abbastanza impegnativa da tenere fuori il giocatore almeno, me dico, almeno 20 giorni, quindi vuol dire che si salta perlomeno la Sampdoria, la Roma e forse un'altra squadra, non mi ricordo l'altra squadra, ma comunque insomma si rischia di saltare almeno tre partite di campionato e con la possibilità anche di saltare una partita di Champions, quindi insomma l'allegria è già finita. Poi dopo, direi che questa era più che sufficiente come notizia negativa, ne arriva un'altra, questa volta da l'Inghilterra e parla dell'affare Rabiot, Rabiot sappiamo già benissimo, un giocatore che guadagna uno stipendio esorbitante, guadagna 7 milioni di euro l'anno, grazie a Paratici che ha fatto questo affarone, insomma ha preso un giocatore a parametro zero, gli ha dato 7 milioni per un giocatore che fondamentalmente se ne valeva 3 o 4 era dargliene tanti, vabbè, però insomma l'abbiamo preso, Amen, abbiamo sbagliato, però cerchiamo di correggere la traiettoria come direbbe qualche d'uno, non mi interessa chi ha fatto l'errore ma cerchiamo di correggere lo prima possibile, quindi era in direttura Manchester United, fra l'altro una squadra per quanto blasonata e quindi Rabiot va con le forse più belle intenzioni, no non direi, va a contrattare lo stipendio, la Juve ovviamente basta darglielo, basta togliersi quello stipendio probabilmente gli avrebbe anche dato grati, Manchester e Juventus sono d'accordo per il passaggio, per la vendita del cartellino e Rabiot va subito in contraposizione con la mamma, cioè la mamma va in contraposizione con il Manchester chiedendo 10 milioni, così una cifretta da nulla, una cifra da top player e se uno si ricorda come ha giocato negli ultimi stagioni nella Juventus di top player io non ho visto neanche il modo di farla pipì, insomma praticamente è un giocatore, per quello che ha dimostrato, da un buon giocatore, sì ok, che ha delle capacità, ma assolutamente non un top player e porta una pretesa di 10 milioni, ovviamente il Manchester dice di no, cosa vuoi che dica, 10 milioni non te li merdi, è chiaro, vuoi anche che loro abbiano i soldi ma non sono mica scemi e perché lui chiede 10 milioni, beh perché loro non giocano la Champions, quindi lui deve farsi vedere, deve essere bravo, deve essere bello e quindi se loro non fanno la Champions è un disincentivo e quindi vuole essere ricompensato, ovviamente il Manchester dice di no, fa una proposta sotto i 7 milioni perché hanno capito che il giocatore non vale quella cifra lì, adesso esattamente 6 milioni mi pare che fosse l'offerta del Manchester, salda fuori la mamma molto diplomaticamente dice, non dico quello che ha detto o quello che penso che abbia detto, ma ha detto molto diplomaticamente che quella cifra lì non è assolutamente adeguata alla capacità del figlio, probabilmente ha visto un film alla radio, però cosa succede? Che il Manchester la prende di punta e dice ciao ciao, quindi annulla l'affare, rimanda il giocatore al mittendi che poi fra l'altro non era ancora partito e di conseguenza salta l'affare, fondamentalmente di per sé è una brutta notizia perché credo che Rabiot ad oggi nella Juventus con l'arrivo di Pogba e speriamo l'arrivo di qualche ed un altro credo che sia un giocatore in più, non serva nulla, ha uno stipendio esagerato, merita di andarsene da un'altra parte per magari rivalutarsi e diventare quello che lui crede di esserci un super campione, poi se ci riescono a farlo diventare ben venga per gli altri, ma insomma io credo che a Torino abbia già consumato tutto il suo tempo. Quindi cosa succede? Che di conseguenza la trattativa Paredes che era una trattativa ben avviata e ormai praticamente fatta viene bloccata perché se Rabiot non parte potrebbero esserci dei problemi per la Juventus ad acquistare un nuovo centrocampista. Quindi è un bel quadretto, un bel quadretto per rendere felice un tifoso juventino in un mercoledì di agosto, quindi cosa volete fare? Andiamo a piangere nell'angolino e speriamo che domani sia un giorno migliore. Detto questo vi saluto e buona giornata sperando che arrivino notizie sinceramente molto migliori perché queste sinceramente non mi piacciono per nulla. Ciao a tutti!